Quanto riguarda il Best Coppie, il giudice dal Portogallo, il signor Rui Oliveira. Ecco, entra subito la prima coppia, Risa Schnauzer, Neri. Bovaro del Bernese. E Huff & Pinscher. Allora. Ecco qua, tre coppie, la prima coppia sono due Risa Schnauzer, Neri, la seconda coppia sono due Bovari del Bernese e a seguire una coppia di Huff & Pinscher. Allora, al terzo posto, Huff & Pinscher. Allora, al secondo posto, i Bovari vincono Risa Schnauzer. Ok, ci siamo. Allora. 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 Grazie a tutti.